L'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano, protagonista al concorso Le Stelle inquiete, svoltosi presso il Centro Culturale San Luigi di Francia a Roma, organizzato dalla Kitchen Film. Ben cinque studentesse, infatti appartenenti alla classe 1A del Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto Superiore di Teggiano, diretto dal dirigente scolastico Olimpia Pasolini, sono state premiate per i loro saggi brevi al concorso di video e scrittura Le Stelle inquiete. Al convegno sono seguiti la cerimonia di premiazione e la promozione in anteprima del film della regista Emanuela Piovano Le Stelle inquiete. Dal presidente della giuria tecnica, giornalista e critico cinematografico Tullio Massoni sono state premiate, ricevendo il premio Agi Scuola, le alunne Eugenia Sorgente, Ilaria Tropiano, Antonella Spolzino, Miriana Cuccare e Rosanna Ferro, che hanno sviluppato saggi brevi su tematiche quali Dio, l'amore, la politica e la libertà. L'Istituto di istruzione superiore Pomponio Aleto di Teggiano è stato rappresentato dalla professoressa Paola Testaferrata.